e oggi siamo su 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 corso e cavalli corso e cavalli non è da femmini da maschi femmini ma corso e cavalli prendiamo metto subito pubblicità start andiamo io sono quello lo sapevo 2400 cosa lo dirà su figo ok dio su si lo so l'ho già fatto raga oddio vai scusa si lo so che non fuori mi guarda o saltare mio dio come 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 di raga no ora corsa facciamo corsa costa scattoli per potenziarla un bel po di soldi 200 no scorta costa tutto costa tutto 200 euro quanti i start facciamolo a gare ah no devo vincere questa partita non so ma che non sono come vino scusate che non si vede bene la telecamera perché questo è un gioco è un gioco di cavalli sapete una cosa io mi tocco proprio ok non si vede più la visura perché giravo e non si vedeva sì ho capito e non dovevo neanche andare ma perché apriamo nonno andiamo 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 a start ma perché apriamo nonno dopo andiamo andiamo via vai salta vai 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 ce la puoi fare vado 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 troppo forte e quanti 40 soli 3 stelle tutto per 10 euro 10 euro carreri a gare 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 si gare giocando giugare sono delle gare perché facciamo le gare andiamo a fare le gare giardi siamo forse c'è un po troppo gioca 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 giugare dio 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 ragazzi ragazzi sono terzo via mazzo primo 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 vai 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 senza poi tira tira non ti può ma bose o città terzo 61 dollari quello che costa andiamo sul terzo terza gare 300 quanti siamo spiegano siamo in troppi andiamo io sono il numero terzo va tira 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 veloce tira veloce nooo terzo terzo vai quello è morto si vede che quello è prima vai cavolo sono ultime ragazzi ultima ultimissima è è è è è dai che arrivo secondo 34 euro per arrivare a 180 fammi andare mamma ha fatto arrivare il quinto 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 non posso bisogna ragazzi ha tolto tutto no non qua sull'altro non mi stanno capire giù sta la mamma servire il piscicino piscina però